Nella nostra azienda agricola effettuiamo la vendita diretta di frutta, verdura, uova, miele, il tutto utilizzando il metodo agroecologico, cioè senza l'utilizzo di pesticidi né trattamenti di sintesi. L'esperienza che vogliamo offrire ai nostri ospiti è quella di immergersi completamente nella natura, conoscendo i nostri animali, le anatre, le galline, gli alpaca e di staccare completamente la spina per fare un'esperienza unica. Abbiamo deciso di allevare le alpaca perché si sposano perfettamente con la nostra idea di natura. Ci aiutano a tenere pulito il territorio e ci offrono una splendida lana, sette volte più calda della pecora, con la quale realizziamo dei bellissimi manufatti, delle trapunte, dei cuscini, dei filati. Se c'è un valore profondo che sottende a tutte le mie azioni, quello è l'amore profondo per la natura e per la biodiversità. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.